buonasera a tutti ragazzi un video molto veloce per aggiornarvi un pochettino su quello che sta succedendo da noi in ufficio ad investire.biz dato che come avete visto nei precedenti video siamo in pieno periodo criptovalute dato che il 4 di novembre avremo questo corso di una giornata intera a Bologna e insomma oggi ho avuto uno scambio molto interessante di vedute con il team di persone che si sta occupando di appunto questo progetto perché non smetterò mai di ripeterlo io sarò studente al corso di Bologna quindi sarò in mezzo a voi ad imparare però chiaramente essendo che nell'ufficio di fianco a me stanno facendo tutti questi esperimenti spesso vado a curiosare e oggi sono andato a pranzo con uno dei responsabili del progetto e mi ha detto una cosa interessantissima che mi sono detto questa sera poi quando faccio il video lo dico e appunto questa questa persona che poi avrete modo di conoscere al corso mi ha detto ma sai Luca che più metto le mani più capisco di bitcoin e di criptovalute e più mi fa più capisco che il bitcoin non potrà il prezzo del bitcoin non potrà assolutamente scendere più di tanto nel prossimo futuro anzi è molto molto probabile secondo secondo lui che il prezzo salga tantissimo quindi questo per vari motivi chiaramente io gli ho chiesto ma spiegami come mai ovviamente un'informazione di questo tipo mi ha subito colpito e quindi gli ho chiesto di preparare una bella slide o più di una slide dove appunto verrà spiegato il motivo per cui appunto le probabilità che il bitcoin il prezzo del bitcoin salga veramente tanto sono altissime e mi è venuto in mente chiaramente il quello che il mitico mcafee l'ideatore del dell'antivirus famosissimo uno dei primi antivirus al mondo appunto il mcafee ha detto pochi mesi fa pochi mesi fa mcafee che cosa ha detto ha detto che se entro due anni il bitcoin non andrà a 500 mila dollari lui si mangerà il suo pene in diretta tv ecco parlando con i responsabili del progetto bitcoin in investire.biz facendo un po di calcoli abbiamo hanno calcolato che sarà abbastanza improbabile che in due anni il prezzo arrivi così in alto ma ne vedremo delle belle quindi insomma il mio invito è quello di veramente pensare a questa cosa vedremo esattamente i motivi entreremo nel dettaglio poi di queste considerazioni durante il corso del 4 di novembre a bologna però insomma pensateci perché come abbiamo detto l'altra volta è molto probabile che siamo solamente all'inizio di questa di questa di questo trend e che nonostante tutti tantissimi parlino di bolla siamo veramente solo all'inizio quando abbiamo cominciato a a vedere il bitcoin personalmente l'ho visto quando valeva 20 euro e mi sembrava già salito tanto e non ho fatto niente poi è salito fino a 200 e mi sembrava ovviamente gli ho detto cavoli da zero è andato a 20 da 20 a 200 e dove dove andrà mai per fortuna per fortuna le persone che poi oggi stanno collaborando con me mi hanno convinto ad entrare in quel mercato e insomma tutti i rialzi che poi sono arrivati dopo me li sono me li sono sfruttati a pieno ma la chiacchierata di oggi è stata veramente molto costruttiva molto interessante e ho avuto l'opportunità di vedere un uno squarcio diciamo di di quello che potrebbe essere un probabile un probabile futuro quindi insomma io vi invito a andare su investire.biz www.investire.biz nel calendario corsi ed eventi webinar e corsi insomma nel menu trovate appunto tutto il programma guardatevelo bene perché non è un corso di trading ma è un corso di una giornata intera che toccherà tantissimi aspetti delle criptovalute quindi insomma mi raccomando valutate l'idea e l'ipotesi di di partecipare a questo corso di venire con noi a bologna perché sarà veramente molto molto interessante io vi saluto qui ragazzi ci vediamo domani su investire.biz ciao a tutti